Era l'unico imputato per omicidio volontario nel processo Eternit bis Stefan Ernest Gmideini, ex proprietario della Eternit di Bagnoli, per cui la procura aveva chiesto 23 anni e 11 mesi di reclusione per la morte dei sei operai di due loro familiari provocata dal contatto prolungato per anni con le fibre di amianto utilizzate nella fabbrica. Poche ore fa il tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per la morte di sei lavoratori, condannando l'imprenditore a tre anni e sei mesi di reclusione solo per la morte di uno degli operai, Antonio Balestrieri. Il sito industriale aprì negli anni 40, chiuse durante la guerra, per poi ripartire e restare attivo fino al 1985. Produceva lastre, canaloni, tubi e pezzi speciali per l'edilizia. Nel 1979 vi erano impiegati 534 operai. Il tribunale ha condannato l'imprenditore svizzero al risarcimento delle parti civili, tra cui l'associazione Mai più Amianto, che questa mattina ha organizzato un presidio di protesta davanti alla sede del Palazzo di Giustizia di Napoli. Io sono un ex lavoratore della fabbrica delle eternette di Bagnoli e i vecchi commissari di fabbrica mi raccontavano come si lavorava in fabbrica, con le mani nude, mettendo le mani nei sacchi di amianto e mi raccontavano che non c'erano norme di sicurezza. Ora pensare che la gente lavori con le mani nei sacchi di amianto, senza strumenti di sicurezza e la direzione alla proprietà non ne sappia nulla, faccio fatica a crederlo.